Penserà che io sono un po' esagerato, magari un po' fissato, ma... No, per carità, anch'io le mie piccole fissazioni. Del resto, chi non ha le sue, anche se si sforza di nasconderle. Ricorda i versi? Se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto... Eh, quanti mai! Taran, taranno, ci farebbero pietà. E un piccolo bucato sa certi indumenti proprio intimi, io me li lavo da me in camera mia. Non tanto per economia, intendiamoci, quanto per l'igiene. Oh, ma anch'io! Ah, sì? Sì, finché si tratta di abiti o di indumenti, ma la biancheria intima mischiarla con tutta quella della gente dell'albergo. Certo, le lavanderie degli alberghi sono pipai di microbi. Gradisci un altro po' d'acqua, signorina. No, grazie. Ma come mai una donna con le sue qualità, le sue doti, ancora, mi scusi, ancora... Zitella? No, intendevo dire nubile. Sono stata fidanzata due o tre volte anch'io, ma sono stata sfortunata come lei. Se una donna non ha sopportato le sue, si figuri se un uomo poteva sopportare le mie... Fisime. Che a noi due va proprio bene quel noto verso, non so se ricorda, i fiori che non colsi... Ah, sì? De Amicis? Gozzano. Ah, già. Sì. E' una poesia torinese. Sì.